Evitare l'esteriorità della fede piuttosto fondare la propria vita su giustizia, misericordia e fedeltà. È la prima sfida lanciata da Rosanna Virgili ai partecipanti al convegno 2019. È la roccia alla quale la Chiesa deve saldarsi di fronte alla crescente fragilità fisica ed etica delle sue comunità. La prima parola, roccia appunto, invita a cercare l'autenticità della fede e a non essere ipocriti, a gettare le maschere. Di qui il legame con la seconda parola, essere sale nella società contemporanea, cioè, dice la Virgili, conoscere a fondo il tema della fede per dare sapore, valore e senso all'esperienza umana. Occorre passare del tempo a meditare e a riflettere sulla parola perché, aggiunge la biblista, il cristianesimo non può più continuare a vivere di rendita. La terza parola, prossimo, lancia una sfida enorme, amare il nemico, una scelta impossibile, quasi contro natura, spiega Rosanna Virgili. Eppure riflette amare l'altro, il diverso, lo sconosciuto, è il mistero del cristiano e la vocazione della chiesa di oggi. Quarta parola, la cura. Facendo riferimento al Vangelo di Matteo, che nella genealogia di Gesù inserisce quattro donne, la Virgili sottolinea due temi, l'importanza della donna nella chiesa e l'importanza oggi di uomini e donne capaci di prendersi cura dei propri figli e delle proprie famiglie. La biblista esorta a guardare alla figura di San Giuseppe e al suo prendersi cura di Gesù da padre adottivo, di cui l'appello, i padri devono essere presenti in famiglia e avere sempre più la responsabilità dei propri figli. Infine, la quinta parola, felicità, che scaturisce dalla pagina delle beatitudini, forse la più bella del mondo, dichiara Rosanna Virgili, spiegando che in quel testo c'è il sogno dell'umanità. La fede conclude, ci dice, sì, si può essere felici.